Musica Il Papa ha firmato Ozzisi la sua terza enciclica Fratelli Tutti, un documento incentrato su fraternità e amicizia sociale, domani la presentazione dei contenuti. Nomine diocesane Don Federico Tavella, parroco di Santo Stefano a Lavagna, il vice parroco sarà Don Andrea Costa, aiuto pastorale Don Stefano Libini, Don Tavella e Don Libini mantengono gli attuali incarichi. Notte difficile per l'intera Liguria in allerta rossa, colpito il ponente della regione, alluvionata 20 miglia, nuovi temporali in arrivo domenica pomeriggio. Mareggiata nella notte a Rapallo, danni alla passeggiata appena rifatta e a San Michele di Pagana, un'imbarcazione spiaggiata, una frana, isola quattro famiglie in via di Comega. Un fornello sulla provinciale per Portofino, danni agli stabilimenti balneari, salve le attività commerciali, mattinata di lavoro a Santa Margherita Ligure per ripristinare il lungomare, test superato per la nuova diga del porto. Conta dei danni a Bargone, dopo la frana causata dal maltempo, il sindaco di Casarza Ligure chiede più fondi da investire per la messa in sicurezza del territorio. E intanto c'è una nuova allerta gialla sul levante della Liguria, attenzione ai bacini grandi, già stasera, domani sotto osservazione tutti i corsi d'acqua, la tregua è durata allo spazio di mezza giornata. Si faceva pagare per intestarsi i veicoli, usati poi da altri per compiere reati, un imprenditore di 57 anni è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante. Nella festa di San Francesco, la diocesi celebra la giornata del creato, quest'anno sarà distribuito un opuscolo preparato insieme a tutte le confessioni. Sconfitta casalinga per la Virtus Entella, la reggiana passa 2-0 al comunale di Chiavari nella seconda giornata di campionato, decidono un gol di testa di Mazzocchi e un rigore trasformato da Varone. Buonasera a tutti e ben ritrovati a Tigulli oggi, Papa Francesco nel pomeriggio ha celebrato ad Assisi la Santa Messa e ha firmato la sua terza enciclica intitolata Fratelli Tutti. Il contenuto di questo documento che è dedicato alla fraternità e all'amicizia sociale sarà presentato nel corso della giornata di domani, intanto vediamo che cosa è accaduto oggi pomeriggio. Il Papa ha firmato oggi la sua terza enciclica Fratelli Tutti. Lo ha fatto in un luogo che è più di un simbolo perché già da solo dice, dice tutto del pontificato di Orche Mario Bergoglio e dei contenuti di questo documento, la cripta della Basilica Inferiore di Assisi che custodisce la tomba di San Francesco. Alla vigilia della festa del poverello di Assisi, Francesco ha celebrato la Messa in questo piccolo luogo, visitato ogni anno da migliaia di persone. Al termine ha firmato una enciclica dedicata alla fraternità e all'amicizia sociale, fronte aperto di una umanità ferita anche dalla pandemia. I contenuti di questo testo saranno presentati domani, il titolo prende spunto dalle parole dello stesso San Francesco. Al termine della semplice cerimonia di firma, il Papa ha richiamato sull'altare tre componenti della prima sezione della Segreteria di Stato che hanno lavorato alla stesura delle varie traduzioni. Lo ha fatto come gesto di ringraziamento per sua stessa ammissione con un indirizzo di saluto al termine della celebrazione della Messa. L'enciclica è stata portata sull'altare da Monsignor Paolo Braida che è all'incaricato delle traduzioni e dei discorsi del Papa nella prima sezione. Papa Francesco non ha tenuto l'omelia. Per suo stesso desiderio e in considerazione della situazione sanitaria, la celebrazione si è svolta senza la partecipazione dei fedeli. Ad accompagnare e sottolineare dunque il gesto della firma sono stati la preghiera, il silenzio e la semplicità della liturgia della festa di San Francesco che la Chiesa celebra il 4 ottobre. Il Vescovo ha firmato alcune nomine diocesane, in particolare Don Federico Tavella è stato nominato parroco di Santo Stefano a Lavagna. Don Federico resta parroco della comunità di Santa Maria Madre della Chiesa, sempre a Lavagna. Il sacerdote novello Don Andrea Costa viene nominato vice parroco di Santo Stefano e di Maria Madre. Don Stefano Libini, invece, viene nominato aiuto pastorale, sempre per le due comunità di Santo Stefano e di Maria Madre. Don Stefano resta parroco di Nostra Signora del Ponte e di Cogorno. Don Matteo Benetti affiancherà come padre spirituale del seminario diocesano Don Federico Tavella, mantenendo gli attuali incarichi pastorali. L'ingresso di Don Federico nella parrocchia di Santo Stefano sarà dopo la festa dei Santi. Ora veniamo al maltempo, è stata una notte difficile per l'intera Liguria. In allerta rossa le piogge hanno colpito soprattutto il ponente della nostra regione. Il fiumeroia ha alluvionato la città di Ventimiglia, smottamenti e frane si sono registrati in tutto l'imperiese. Oggi è il giorno della conta dei danni, anche per quanto riguarda il Tiguglio, flagellato dal maltempo. Facciamo il punto nel servizio. È l'estremo ponente della Liguria ad essere stato investito dal maltempo di questa notte. La situazione più critica è in Ventimiglia e in altre otto località dell'imperiese. Tredici sono le persone evacuate in questa zona e cinque i comuni isolati. Secondo i dati della protezione civile, in provincia di Genova invece si registrano problemi a Darenzano, Casarza Ligure, Favale di Malvaro, Sestri Levante e Rapallo e 50 persone isolate. Nello spezzino, infine, criticità a Maisana e Varese Ligure. Stiamo in questi minuti proprio facendo il computo dei danni, dei danni strutturali. Fortunatamente parliamo di danni alle cose, non abbiamo feriti né dispersi al momento. Questo direi che è la notizia più importante che potevamo dare nella mattinata. Ma è chiaro che tutta la Valle Arroscia, la Varroia, anche un pezzettino di Valmervia, direi che sono state duramente colpite. Quindi dovremo fare una situazione puntuale di quanti danni sono stati causati da questa ondata straordinaria. Il maltempo concederà una tregua, occhi puntati però su domenica e su un nuovo passaggio perturbato. La macchina della protezione civile è già al lavoro. Questa pausa ci consentirà di far drenare soprattutto i corsi principali e riportarli dentro i limiti. Ma domani ci si aspetta più sul centro levante che non a ponente un ritorno di una perturbazione abbastanza significativa. Ad oggi sembra meno impattante di quella che abbiamo appena trascorso, ma è chiaro che le prossime ore saranno determinanti per la valutazione. Ed è altrettanto chiaro che i quantitativi d'acqua già caduti faranno sì che anche quantitativi minori di pioggia che dovessero verificarsi sui territori dove è già piovuto possono provocare delle risposte più importanti e anche più repentine dei corsi d'acqua che sono già stati sovetizzati. E chiaramente è stata una nottata di apprezzione per il Tiguglio occidentale che porta ancora le ferite della grande mareggiata del 2018. A Rapallo questa mattina si è lavorato per levare i detriti che sono stati portati dalle onde sulla passeggiata. Si contano diversi danni e un'imbarcazione spiaggiata, toccata anche San Michele di Pagana, mentre una frazione è rimasta isolata. Vediamo. Si contano i danni fortunatamente limitati, tanta spazzatura comunque sul lungomare. Che bilancio abbiamo? Ma innanzitutto il primo bilancio è che non abbiamo una persona ferita e non ci sono persone che si sono fatte male. Secondo bilancio è una riflessione politica di come sta cambiando il clima, di come sta cambiando. Terza cosa, frazione isolata via di Comega. Quattro famiglie isolate, siamo là dalle 4 di mattina per fare in modo di ripristinare la situazione. Danni ce ne sono? Possono sembrare pochi, tanto materiale, ma dal punto di vista economico ci sono. Abbiamo una scala distrutta per quanto riguarda il castello, vincolata. Abbiamo la passeggiata che era appena stata ripristinata, di nuovo fortemente danneggiata. I danni sono importanti, come potete vedere abbiamo delle barche che sono spiaggiate, abbiamo un lungomare da ripristinare in completo, abbiamo esercizi commerciali danneggiati a San Michele di Pagana, fortemente danneggiata a San Michele. Già dalle prime ore abbiamo iniziato col taglio dell'albero, adesso arriverà lo scavatore col martello per la demolizione di questo grosso masso, quindi pensiamo entro fine mattinata o prime ore del pomeriggio di ridare l'accessibilità alla strada. Su Rapallo deve partire il dragaggio per mettere in sicurezza il golfo, manca ancora la protezione del porto, quanto questo può avere influito sui danni che sono stati subiti oggi? No, sicuramente il porto a Rapallo manca, perché ripeto questo non è un porto per noi ma è una protezione, quindi sicuramente qualcosa ha influito, questo è inevitabile e penso sia sotto gli occhi di tutto. Questo rimarca ancora l'importanza di questa pratica che noi dovremo portare nei prossimi giorni in tempi record, perché sappiamo quello che è successo, sappiamo che ci sono stati degli arresti, sappiamo che c'è stata la magistratura, sappiamo quello che è successo al porto a Carlo Riva, quindi è un miracolo che nei prossimi dieci giorni riusciremo a partire con questa importante messa in sicurezza. E anche a Santa Margherita Ligure si è lavorato per tutto il giorno per ripristinare le conseguenze della mareggiata. La cittadina non conta danni alle attività commerciali del lungomare, sono stati invece toccati diversi stabilimenti balneari, mentre è stato istituito un senso unico alternato lungo la strada provinciale che collega con Portofino a causa di un fornello che si è aperto sotto la sede stradale proprio nelle vicinanze del tratto che era crollato nel 2018. Bene invece la nuova diga che ha retto la forza delle onde. Stamattina Santa Margherita si è svegliata con la consapevolezza che il porto che ha subito interventi significativi ha retto bene, con la consapevolezza che la macchina di protezione civile ha funzionato bene, contando per lo più dei disagi e fortunatamente pochi danni. Una nota di apprensione e di presidio operativo del territorio seguita da una mattinata di lavoro per ripristinare le condizioni del lungomare cittadino e fare la conta dei danni subiti fortunatamente non gravi. Santa Margherita Ligure si è svegliata sotto la pioggia, è un lungomare invaso da sabbia e detriti, ma il mare che si è fatto insidioso a partire dalle 23 non ha toccato le attività commerciali della passeggiata. L'acqua non ha invaso gli esercizi commerciali, non ha arrecato danni significativi nella zona del centro città e di ghiaia. Gli unici danni che si sono verificati sono stati l'apertura di un fornello sull'SP 227 prima di Paraggi, la strada che era già stata colpita nella mareggiata 2018, ma in un punto in cui non si era allora intervenuti. Poi abbiamo avuto i danni alla passeggiata di Paraggi, lì sempre la zona di copertura in legno, ogni volta che c'è mare particolarmente intenso salta, è saltata anche questa volta, e poi gli stabilimenti di Paraggi hanno subito dei danni significativi alle parti private. Nel corso di tutta la notte non si è fermato il lavoro dei volontari e dell'amministrazione per pulire e liberare i tombini e i caditoie. Osservato speciale di queste ore è stato sicuramente il nuovo muraglione del porto, ricostruito e potenziato dopo la mareggiata del 2018, che ha retto bene alle leonde. Da un sopraluogo effettuato pochi minuti fa non si è mossa una pietra sulla diga, né sulla parte nuova che ha perfettamente funzionato, né sulla parte vecchia, su cui dobbiamo intervenire nelle prossime settimane, ma che era stata risistemata riposizionando delle pietre e quelle esistenti e devo dire che anche lì non c'è stato nessun tipo di problema. Ringrazio tutto il personale intervenuto ieri sera, le Forze dell'Ordine, i volontari di protezione civile, Capitaneria di Porto, Carabinieri, i nostri ormeggiatori che sono stati sul porto tutta la notte a dare supporto agli equipaggi che erano a bordo. A Santa Margherita Ligure, come avete visto, erano operativi a presidiare il territorio i volontari del Radio Club Levante. È stata una notte impegnativa in realtà anche nell'entroterra. Verzi, Coreglia, Dezzerega, sono alcune delle località dell'entroterra in cui sono stati impegnati i volontari della sezione di Mocconesi. Interventi per taglio di alberi, rimozione di detriti che si sono moltiplicati nel corso delle ore a causa del forte vento. Notte impegnativa, qua siamo sulla costa, il mare a Santa Margherita Ligure ha portato detriti sulla passeggiata, ma anche nell'entroterra non è stata una passeggiata. Come è andata? La nostra sezione di Mocconesi ha dovuto lavorare parecchio perché eravamo in contatto con i ragazzi e segnalazioni di alberi e di frane arrivavano a ogni piesso spinto. Si sono veramente moltiplicati gli sforzi dei nostri ragazzi, ci sono decine e decine gli alberi che non hanno togliato, hanno dovuto riaprire anche la viabilità in determinati tratti. Adesso per fare un nome su tutti mi viene in mente Versi dove hanno lavorato parecchio anche su tronchi importanti e poi in varie frazioni del territorio, mi viene in mente anche Coreglia, la parte di De Zerega. Quindi diciamo che i ragazzi di tutta la notte non si sono risparmiati. Ora la situazione si è tranquillizzata perché è calato il vento e quindi poi anche i comuni hanno messo in atto con il transende, segnaletica. Quindi diciamo che la situazione ora è sotto controllo, sperando che si fermi qua. L'attenzione comunque resta alta perché anche nelle prossime ore è previsto un ulteriore passaggio, forse meno acceso, meno intenso come quello attuale, ma gli occhi e l'attenzione sul territorio sono sempre accesi. Sì, diciamo che sono tempi duri per noi volontari. È un periodo questo, anche agosto devo dire che abbiamo avuto delle allerte storiche perché normalmente in agosto, ora settembre e ottobre, ci stanno impegnando parecchio. E' combinazione che capita nei fini settimana, quindi da un lato è meglio perché abbiamo più disponibilità e più risorse anche nei volontari. Da un lato dispiace perché le attività che lavorano ancora, non in estate, ma con una buona stagione purtroppo ne risentiranno. Queste allerte si sosseguono con una frequenza pesante, devo dire, per noi che siamo volontari, quindi lo facciamo nel tempo libero, però è una cosa in cui crediamo, quindi lo facciamo sempre volentieri. A Moconesi una famiglia di tre persone è stata evacuata a causa della caduta di un albero che si è appoggiato sul tetto di una casa dragonaria. Nessun ferito, solo qualche danno al tetto della palazzina. La pianta si è staccata dal busto ieri notte a causa del forte vento e si è appoggiata sull'edificio. L'albero, come detto, non ha fatto grossi danni. La persona che abita al piano più alto dell'edificio non era presente nell'abitazione. La famiglia che abita al piano terra è stata fatta evacuare invece in via precauzionale. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari e il personale del comune di Moconesi, che dopo le opportune valutazioni hanno affidato l'incarico di rimozione a ditte specializzate. L'albero sarà rimosso lunedì, considerato il maltempo che domani, come detto, interesserà il territorio. Restiamo nell'entroterra. A Favale di Malvaro, una frana è caduta sulla strada che porta alla frazione di Monteghirfo. Canavi, solo e rocca sono rimaste isolate. Dalle versante, già oggetto di un movimento franoso negli anni scorsi, si sono staccati alcuni massi che hanno invaso la carreggiata. Dopo un incessante lavoro durato tutta la notte, grazie ai volontari della Croce Rossa di Cicagna, la strada da questa mattina è di nuovo aperta. Problemi anche sulla provinciale 85 diversi, poco più sotto, dove il tratto è bloccato da alberi caduti in strada. Intanto proseguono anche i lavori per mettere in sicurezza la frana che si è staccata nella frazione di Bargone a Casarza Ligure. Dalla serata di venerdì lungo la strada si procede a senso unico alternato, anche se lo smuotamento franoso è ancora oggetto dell'attenzione dei tecnici. Il sindaco di Casarza Ligure intanto chiede più fondi da investire sul territorio per renderlo ovviamente meno fragile di fronte alle intemperie. Il giorno dopo Casarza Ligure conta i danni. È un sabato dedicato alla pulizia dei detriti e alla verifica dei versanti franati. Il fronte più caldo è quello di Bargone, dove le famiglie sono rimaste isolate per molte ore. Sopra luogo del sindaco anche lungo la strada e sulle frazioni, come Costa di Bargone e nell'area del Bracco. Un'indagine necessaria per compilare le schede di richiesta danni da inviare a regione e governo. Servono i fondi, ora più che mai, tuona il sindaco Stagnaro, che ha voglia di investire in fretta sulla messa in sicurezza delle aree più fragili. Nel 2019 la conta dei danni arrivava ad oltre 12 milioni di euro. Alla luce di quanto accaduto nelle ultime ore, il bilancio va aggiornato. Sicuramente mi tengo basso a altri milioni di euro, perché l'anno scorso abbiamo avuto danni anche sul torrente Petronio, ma in questa alluvione qui siamo interessati anche da altre frane, su altre frazioni, via Barletti, a Cardini, nella zona di Massasco. Quindi comunque è un territorio che era già fragile di suo e ora sta andato ad aggravare, quindi la conta dei danni sarà sicuramente maggiore. A proposito di messa in sicurezza, un'altra situazione da risolvere al più presto è quella del rio Cacarello, che attraversa Casarza Ligure. Ci sono i fondi per il progetto esecutivo, spiega Stagnaro, ora chiederemo quelli per aprire il cantiere. I progetti ci sono, ora occorre che gli enti, i suoi ordinati, ce li finanzino. Penso sia un problema per tutti i sindaci, sentivo anche i miei colleghi, è un'emergenza quella del rischio idrogeologico, della messa in sicurezza del territorio e ora ci dovessero arrivare questi benedetti, dico io, fondi dall'Europa. Dobbiamo investirli soprattutto lì, perché altrimenti il nostro territorio frana in maniera disastrosa e disarmante. E lo avete sentito, è atteso ancora il maltempo per la giornata di domani. Una nuova allerta gialla è stata diramata per quanto riguarda la zona di Genova, del Levante e per la Val Daveto. In particolare per quanto riguarda i bacini grandi, l'allerta scatta già alle 20 di sabato. Per quanto riguarda i bacini piccoli e medi, l'allerta invece parte alle 10 di domani mattina. Vediamo. Si è conclusa una fase frontale di una perturbazione che ha portato sino all'allerta di colore rosso per quanto riguarda la nostra regione, la Liguria, su grande parte della Liguria. Ora che cosa ci attende per la domenica che è ormai alle porte? Vivremo in realtà, abbiamo vissuto in queste ore una breve pausa, ma già dalle ore serali di oggi sabato e in parte della notte sono attese nuove precipitazioni, in particolare a Levante. Tanto che proprio istante il livello di stress idrogeologico dei bacini più grandi, dalle 20, scatta l'allerta gialla appunto sui bacini grandi della zona C, della zona di Levante. Poi domani arriverà un altro impulso instabile che interesserà in particolare il centro Levante della nostra regione e per questo dalle 10 di domani domenica saranno in allerta gialla tutti i bacini della zona B, tutti i bacini della zona C, quindi entreranno anche quelli piccoli e medi e i bacini piccoli e medi della zona E. Fino alla mezzanotte di domani domenica, domantina ci sarà la consueta rivalutazione della situazione anche perché i fenomeni, soprattutto a Levante, potrebbero insistere anche durante le ore notturne tra domenica e lunedì. Tipo di fenomeni dobbiamo aspettarci? Oggi in serata dovremmo avere dei rovesci, potrebbe esserci anche qualche temporale, c'è componente sia temporalesca che di piogge più diffuse, nel passaggio invece diciamo così dalla tarda mattinata di domani domenica, è ragione per cui ecco perché l'allerta riguarda sia i bacini piccoli e medi che i bacini più grandi. Per quanto riguarda il vento e il mare, che sono quelli che in queste ore hanno dato anche maggiori preoccupazioni proprio nel territorio qua del Levante e del Tigullo, qual è l'orientamento, l'andamento delle prossime ore? Avremo ancora mareggiate, mareggiate intense per la giornata di oggi sabato e anche nella prima parte di domani, domenica mareggiate intense, Levante, poi il motondoso andrà un po' diminuendo ma saremo sempre su un livello di agitato o molto agitato in alcune zone della nostra fascia costiera. Per quanto riguarda i venti, continueranno a essere di forti o anche di burrasca dai quadranti meridionali, potranno esserci momenti di leggera attenuazione, però diciamo saranno comunque ancora da monitorare da seguire. A Chiavari proseguono i lavori per la pulizia della rete delle acque meteoriche, c'è qualche criticità per quanto riguarda il canale di Corso De Michiel, come ha spiegato il consigliere delegato al ciclo delle acque Paolo Garibaldi, perché è stato trovato un deposito di argilla che ha rallentato i lavori. Attualmente sono stati puliti 13 metri dei 70 totali. Successivamente gli interventi interesseranno il canale di via Jacopo Rocca e quello di Corso Vrizzolara. La prossima settimana a Sestri Levante inizieranno alcuni interventi strutturali per la rete di raccolta delle acque piovane per migliorare il deflusso in caso di abbondanti piogge. I lavori che erano stati originariamente programmati per la primavera del 2020 sono stati posticipati a causa del lockdown. Un primo intervento riguarda lo scolmatore alla focce della chiusa. Sarà realizzato un canale di scarico ausiliario lungo la spiaggia perpendicolare alla costa per convogliare in mare le acque in arrivo da monte. Un altro invece prevede la realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche stradali lungo un tratto di viale Mazzini. L'investimento complessivo è di 140 mila euro. Nelle prossime settimane poi saranno portati avanti tre ulteriori interventi che coinvolgono il rio Ravino, via Monsignor Vattuone e la zona di Pestella. Ora siamo alla cronaca. I carabinieri di Sestri Levante hanno denunciato un imprenditore residente nella provincia di Genova che si intestava delle automobili, delle moto, dei furgoni per poi consegnarli il previo pagamento ad altre persone che li usavano per commettere reati. Ha usato la copertura di due società di compravendita di auto per intestarsi i 276 veicoli che, dietro compenso, dava in uso poi ad altre persone, principalmente pregiudicati, che li utilizzavano per compiere reati. Per questo, un imprenditore di 57 anni, dopo una serie di indagini, è stato rinunciato per i reati di truffa e falsità ideologica dai carabinieri della compagnia di Sestri Levante. Il meccanismo utilizzato dall'uomo sfruttava la possibilità concessa dalla legge Dini ai commercianti di veicoli, ossia trascrivere un atto di vendita a loro favore senza costi. I soggetti, che di fatto poi utilizzavano i mezzi, che potevano essere auto, ma anche moto o furgoni, potevano transitare dai caselli autostradali senza pagare il pedaggio e non dovevano curarsi delle violazioni commesse alla guida perché le contravvenzioni non li avrebbero mai raggiunti, essendo il veicolo intestato ad un'altra persona. L'autovettura costituiva poi un'efficace copertura nel caso di reati, poiché, essendo intestata ad un altro soggetto, ostacolava l'identificazione degli autori. La truffa è stata poi identificata grazie ad alcune operazioni dei carabinieri, eseguite tra il 2019 e il 2020, che hanno condotto i militari di Sestri Levante all'arresto di numerose persone per vari reati, tra cui lo spaccio di sostanze stupefacenti, furti in abitazione e anche rapine. I veicoli utilizzati per commettere queste attività risultavano intestati sempre allo stesso individuo. Da questo sono scattate le indagini che hanno consentito di smascherare la truffa e di quantificare i vantaggi economici ottenuti utilizzando il sistema dell'intestazione fittizia. Il danno erariale ammonta circa 100.000 euro, dovuto al mancato pagamento del passaggio di proprietà per intero. Quello causato dall'omesso pagamento del pedaggio alle varie società di gestione dei tratti autostradali è stato quantificato invece in circa 50.000 euro. Il mancato pagamento delle sanzioni dovute alle violazioni alle norme del Codice della Strada, invece, ammonta circa 220.000 euro. Infine è emerso che risultano pendenti circa 400 sinistri stradali con il coinvolgimento di queste autovetture con intestazione fittizia, le cui pratiche sono ancora in trattazione poiché gli incidenti sarebbero di dubbia natura. In occasione della festa patronale di Nostra Signora del Rosario, nella parrocchia di San Martino a Zvagli, domenica alle 11, la Santa Messa sarà presieduta da Don Daniele Beronio, alle 12 la supplica alla Madonna, nel pomeriggio alle 16.30 i Vespri cantati con la meditazione di Don Gianluca Trovato, lunedì 5 ottobre alle 18.30 la Messa per tutti i defunti della parrocchia. A Santa Sabina di Trigoso, domani alle 9 la Santa Messa celebrata dal parroco Don Enzo Frisino, alle 11 la Messa solenne celebrata da Monsignor Alberto Maria Careggio. Al termine a mezzogiorno la supplica alla Madonna. Alle 17 il Vescovo Careggio presiederà il Vespro. Al termine sul Sagrato la preghiera dinnanzi all'Arca processionale della Madonna. Per la comunità sarà un momento di gioia particolare perché sarà ricordato il 50esimo anniversario di ordinazione presbiterale di Don Enzo Frisino ed il 25esimo di ordinazione episcopale di Monsignor Alberto Maria Careggio. Festa della Madonna del Rosario anche nella parrocchia di San Siro a Santa Margherita Ligure. Domani alle 18 la Santa Messa preseduta dal sacerdote novello Don Andrea Costa. Le messe al mattino saranno quelle consuete, ossia alle 8 e alle 10.30. E domani, domenica 4 ottobre, festa di San Francesco, si conclude il tempo di preghiera della salvaguardia del creato. In diocesi non ci sarà il tradizionale momento d'incontro, ma sarà distribuito un opuscolo da utilizzare in tutte le celebrazioni dal taglio ecumenico. Vivere in questo mondo con giustizia, sobrietà e pietà. Il versetto della lettera Tito è il tema scelto per la giornata del creato. Non un compito da esaurire in 24 ore, domenica 4 ottobre, ma un impegno da assumere con maturità. Non basta essere brave persone, insomma, avere a cuore la vita o nel concreto non utilizzare più la plastica. Occorre una cura collettiva, a partire dalla politica, per far sì che si possa arrivare ad un'economia compatibile con la salvaguardia del creato, senza per questo dover tornare al Medioevo. Noi dobbiamo cercare di mettere insieme le esigenze di una società sviluppata e che dunque deve consumare e deve produrre in modo efficiente per tutte le persone e dall'altra il rispetto della creazione. E dunque che domani ci sia ancora una creazione e che dunque le prossime generazioni abbiano la possibilità di accedere a tutte le risorse necessarie per la vita. Quest'anno, causa Covid, non ci sarà il consueto momento d'incontro ecumenico in diocesi. È stato però preparato un pieghevole che domani potrà essere utilizzato in tutte le celebrazioni. Distribuendolo un po' ai fedeli, ai cristiani presenti, sia nelle nostre messe cattoliche in tutta la diocesi, ma anche nei momenti del culto domenicale delle due comunità evangeliche, quella di Chiaveri e quella di Rapallo, e poi anche nelle divine liturgie che i nostri fratelli ortodossi celebrano nelle diverse comunità a Genova. È un sussidio molto semplice, con alcune riflessioni a più voci, con alcune intenzioni di preghiera che vorremmo appunto usare durante le nostre celebrazioni, e anche la proposta di un paio di canti che laddove è possibile appunto sarà bello cantare per sentirci davvero in comunione. Siamo allo sport, il calcio, sconfitta casalinga per la Virtus Entella, la Reggiana passa per 2-0 al comunale di Chiavari nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie B. Decidono un gol di testa di Mazzocchi sul finire del primo tempo e un rigore trasformato da Varone all'ottantottesimo minuto. Bianco Celesti sfortunati con il nuovo acquisto Morosini che prende tre legni nel corso della partita. Prestazione generosa sul piano dell'impegno e prolifica per le occasioni create. I chiavaresi però hanno pagato alcune distrazioni difensive. Una settimana di pausa adesso per la Serie B che torna tra due settimane. L'Entella sarà di scena contro la Reggina il 17 ottobre alle 15 di nuovo al comunale di Chiavari. E a causa del maltempo è stato rinviato al 28 ottobre l'incontro lavagnese-casale in Serie D. La partita avrebbe dovuto disputarsi nel pomeriggio di quest'oggi al Broccardi di Santa Margherita Ligure. I bianconeri vedono slittare dunque ulteriormente il loro esordio in campionato. Domenica scorsa era stata infatti rinviata la partita Sanremese-Lavagnese a causa del Covid. Il debutto stagionale in Serie D sarà mercoledì 7 ottobre in trasferta contro l'Arconatese. Ora vediamo che cosa c'è in programma per la giornata di domani con la nostra agenda. Appuntamenti in agenda per domenica 4 ottobre. Il castello della Dragonara di Camogli ospita la mostra vista sul paesaggio. L'iniziativa è promossa dal Porto delle Storie insieme all'Associazione Culturale Sergio Fedriani. Ultimo giorno di apertura con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. L'ingresso è libero. Nella torre civica di Via della Cittadella a Chiavari è visitabile la mostra di pittura di Francesco Cassanelli intitolata Poesia tra realtà e fantasia. È aperta dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19 e 30. Apertura alle visite del Museo Dio Cesano di Arte Sacra dalle 10 alle 12 in Piazza Nostra Signora dell'Orto 5 e 7 a Chiavari. Sono esposti dipinti, argenti, tessuti, suppellettili e paramenti liturgici dall'VIII al XX secolo. Ultimo giorno di apertura per la mostra alla scoperta della serenetta di Hans Christian Andersen a Sestri Levante che espone i disegni idealizzati dei bambini e dei ragazzi che hanno partecipato al concorso. Si trova nei locali di Palazzo Fasce ed è visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Secondo appuntamento della rassegna Obiettivo Creatività organizzata dall'Associazione Lunaria Teatro insieme al Comune di Chiavari. Alle 17 e 30 all'Auditorium San Francesco va in scena allo spettacolo Le Donne di Spoon River. Orietta Notari e Alice Bignone propongono letture dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master e canzoni di Fabrizio De Andrè tratte dall'album ispirato al libro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata e buona domenica. Grazie per averci seguito e buona domenica.